Lo squallido spettacolo offerto durante il Festival di Sanremo ha offeso grandemente i sentimenti religiosi dei credenti, ma ha offeso anche i sentimenti di buonsenso e di pubblica decenza di tanti non credenti che hanno firmato la nostra petizione e ci hanno scritto messaggi di solidarietà. È grave che un tale spettacolo venga offerto dalla RAI, che dovrebbe fornire un servizio di pubblica utilità. In un tale spettacolo non c'è nessuna utilità né pubblica né privata, a meno che non sia utile a qualcuno offendere i sentimenti altrui. Ma spettacoli del genere sarebbero inaccettabili anche se trasmessi da tv commerciali. Qualcuno obietta che basta cambiare canale? No, non basta cambiare canale. Nessuno di noi sarebbe disposto ad accettare che in pubblico vengano offesi i suoi familiari. Mentre offendono tua madre su RAI 1, tu sei disposto a cambiare canale o a spegnere la tv? Dio è mio padre, la vergine è mia madre. Quindi no, non basta cambiare canale.